E' ora che vi dica la verità su Lien Grayson. La prima volta che è venuta in questa casa è stato un atto d'amore. Quell'amore era un amore egoista. Ha portato morte e distruzione a tutti noi. La gente continua a farsi male in questa casa. Lien, quando è felice le cose vanno bene. Quando si arrabbia vanno male. Io non sono quella che ero. Lei mi fa paura. Sono qualcosa di più. Faccio male alla gente quando mi arrabbio. La cosa più preoccupante è che inizi a piacermi come questo mi fa sentire. È lei o noi. Se lei vince, la città cadrà e questo sarà solo il principio. E io che pensavo che non potessi renderlo più disgustoso o riprovevole. Vuoi sapere un segreto, Dorothy? Jericho. Al prossimo episodio. Grazie a tutti